Beppe Costa come definisce quello che è successo con la concessione a Spinelli? Direi che è un problemone ovviamente, frutto anche dei ritardi che noi come terminalisti chiediamo da tempo di applicazione di un nuovo piano regolatore. Ricordiamo che l'attuale invigente è stato definito e c'era scritto ai suoi tempi che dopo dieci anni doveva essere visto, quindi torno a perlomeno 2011-2012 rivisto. Noi sono anni che chiediamo un piano regolatore portuale, questo purtroppo è una chiara conseguenza di non avere un piano regolatore. Come racconta lei la storia? Come la descrive? Ma io descrivo che il mondo in vent'anni rispetto al 2001 è cambiato decisamente quindi di fatto quello che valeva nel 2001 non è quello che vale oggi, le navi sono diverse, i traffici sono diversi, ormai in container io sbarco oli alimentari nella mia attività e molti oli alimentari ormai arrivano in flexi tanks quindi in container e non più in nave e quindi il mercato è cambiato decisamente, le navi sono molto più grandi, quindi parlare adesso anche di merci varie che cosa vuol dire? Non containerizzate, invece sembra che al terminal Spinelli insomma arrivassero navi container più che merce varie. Io non so esattamente cosa arrivasse, non sono andato a leggermi le statistiche, però le merci varie che cosa sono le merci varie? Sono quelle che sono in container sciolte o sono quelli, mi dicono che anche si viene trasportato anche grano o altri sementi tipici da navi rinfusiere anche in container, quindi il container è una scatola che ha preso piede in mania totalmente diversa dal 2001 ad oggi ma anche dallo stesso 2011 se avessimo rifatto, ancora nel 2011 si parlava di navi da portacontainer di 5-7 mila teu, oggi si parla di 25 mila o di più, quindi devo dire che sostenere che in porto a Genova ci debbano essere solo due terminal che sbarcano container mi sembra fuori tempo. Anche se il nuovo piano regolatore portuale non è stato ancora scritto e nel vecchio c'era scritto quello se non sbaglio. Assolutamente certamente e nuovo ribadiamo quello che noi chiediamo diciamo con testardaggine e conciuttaggine che vogliamo vedere il nuovo piano regolatore di cui abbiamo visto la progettualità del sindaco di come la vede lui ma la progettualità dell'autorità portuale continuiamo a non vederla e continuiamo a dire perché il commissario non si dedica anche a questo, non è proibito che il commissario si dedichi anche perché commissari precedenti che ci sono stati tra due diversi presidenti, se non sbaglio l'ammiraglio Pettorino è stato anche commissario in una certa epoca tra Merlo e Signorini, non ha interrotto la gestione anche straordinaria per cui non vedo perché il commissario Seno non si dedichi a questo. Quindi sta dicendo si dedichi a questo commissario? Era la prima cosa che doveva fare, ovviamente oltre a mettere in ordine le carte ma questo lo diamo per scontato il piano regolatore portuale è uno strumento fondamentale. Questa sentenza secondo lei può mettere in gioco altre concessioni del porto di Genova? Cioè che situazioni ci sono che pongono degli interrogativi non solo a livello nazionale ma proprio a Genova? Allora non conosco tutte le concessioni però se non sbaglio ci sono state delle gare indette dall'autorità di sistema portuale anni fa in cui parlavano di aree da destinare a container a termini a contenitori e non sono né l'area del SEC che peraltro oggi è separata da Bettolo né l'area del VTE-PRA che è del PSA quindi... Parla di Roncocanepa? Ad esempio Roncocanepa se non sbaglio non vorrei dire errori però è destinata a container dall'autorità di sistema portuale ha fatto la gara così. Bettolo, costruendo da Bettolo? E anche quella era insieme al SEC poi oggi è separata perché la vita l'ha fatto separare cioè cose normali autorizzate correttamente io reputo dall'autorità di sistema portuale perché mi sembra anacronistico il tema delle due soltanto due poli nel 2024 container del porto di Genova. Ma definisce anche anacronistica la sentenza di conseguenza oppure la sentenza visto che il vecchio piano era quello può starci? Sul tema legale non ci posso entrare perché non ho le competenze per poterle fare però dal punto di vista pratico lo trovo anacronistico. Cosa succede adesso? L'hai presente dei terminalisti? Un po' di bulezum come si dice in genovese ci sarà nell'ambiente? Certamente abbiamo letto e diamo per scontato che il Terminal Spinelli stia facendo ricorso non so se sarà depositato o meno perché è assistito da ottimi avvocati e quindi lo farà ma ho letto e credo che sia anche corretto che l'autorità di sistema portuale faccia ricorso contro questa stessa sentenza che la vede comunque partecipe.